Finalmente il primo vero weekend estate, con un sole che ha accompagnato bagnanti pesaresi e turisti sia il sabato che la domenica e che continua ad essere presente assieme ad un grande caldo estivo anche nella giornata di oggi. Tutti al mare insomma. Finalmente, aggiunge magari, chi con il mare ci lavora e che con il tempo altalenante dell'ultimo mese aveva forse un po' storto il naso. Si può dire che è iniziata anche se diciamo sinceramente anche la settimana scorsa abbiamo avuto un bello flusso di gente con questo capitale della cultura, sinceramente c'è un bel movimento. Diciamo si vedono più turisti italiani rispetto allo scorso, quelli che fanno i viaggi di una giornata, i gruppi della giornata, quelli che fanno un paio di giorni, i turisti più o meno sono come gli altri anni. A livello di temperatura è stato il primo weekend estate, a livello lavorativo ci assomiglia un po' al weekend scorso. Siamo ottimisti e abbiamo visto anche un bel riscontro positivo della flusso della gente che viene a visitare Pesaro, poi di conseguenza viene a mangiare, guarda i locali, insomma frequenta un po' tutto quanto. A noi vengono soprattutto a mangiare i pesci, dagli antipasti i primi, la fritturina, quindi diciamo noi prevalentemente vendiamo quelle lì, anche la pizza insomma va abbastanza. L'estate inizia bene diciamo che sta iniziando e sì, come tutti gli anni c'è nuova clientela e anche quelli vecchi. Molta clientela sia a pesarese che anche quelli da fuori, molto di più di tutti gli altri anni. Il tempo un po' ci ha buttato un po' giù, però dai ci risolveremo presto. A goderne ovviamente di questo incredibile sole d'estate sono sicuramente i lidi e chi non vedeva l'ora di un caldo simile per rilassarsi in spiaggia prima di un tuffo. Nonostante un mare che anche quest'anno ha portato via altri metri di spiaggia che dunque rendono difficile l'equilibrio tra i bagnanti locali e quelli che vengono da fuori. Abbiamo avuto un inizio giugno non eclatante, un po' di tempo brutto, il ripascimento che si è attardato e ce l'hanno finito qualche giorno fa, però come weekend è andato bene. Un po' di gente che viene da fuori, i nostri soliti locali, diciamo che a parte il mare che ci porta via sempre la sabbia, più ne mettiamo più ne porta via, diciamo che è andato come primo fine settimana di giugno, decente. Ognuno di noi ha una buona parte della spiaggia riservata ai nostri, noi diciamo i nostri. Poi gli alberghi, abbiamo un paio di alberghi dietro un po' importanti, un po' di gente sta arrivando, famiglie e via discorrendo. No, no, diciamo che un 50 e 50 adesso, poi speriamo più avanti che sia un 80 di fuori e i nostri rimangono sempre quelli. In effetti le previsioni davano sempre tempo incerto, nuvole, pioggia, la gente capisce, adesso guarda i telefonini, se si deve muovere da fuori per fare un fine settimana, che già gli dice che non è il massimo e molti rallentano, perciò ha inciso molto. Anche quest'anno abbiamo dovuto fare un paio di fili in meno, purtroppo sono fili che vengono meno gli ombrelloni liberi, perché gli stagionali, quelli o bene o male rimangono, gli ombrelloni liberi vuol dire più avanti, se va avanti così che la sabbia non ce la porta un pochettino, sono posti in meno per quelli che vengono da fuori e dispiace perché vengono a pesano, magari l'apprezzano e poi vengono giù in spiaggia a luglio-agosto e si trovano a cercarsi un posto e quello è il rammarico più grosso. Finalmente è iniziato, è iniziato molto bene, dopo un po' di tempo, un po' inclemente, con un po' di vento, finalmente c'è stata ieri una bella giornata e oggi ancora meglio. Ho visto pure che c'è il solito tran tran tra Pesaro e Fano, che c'è stata una sosta selvaggia, comunque in compenso tutto bene. Il mare, io sono affezionato a questa spiaggia, vengo qua da oltre 50 anni e quindi mi trovo bene, solita routine, un aperitivo e poi pranzo a casa.